Musica Ciao, mi chiamo Salim Biondin, ho 31 anni, faccio arti marziali, ho 13. Ho praticato principalmente Winsung e nell'ultimo anno e mezzo ho incontrato il Penso Axilo. Come pensi del corso di formazione che stai frequentando? Che è una bomba perché ti dà tantissimo, è un torni a casa che hai un pacco di informazioni incredibile, ben strutturato, perché ti ritrovi con un progetto, diciamo, che ti dà delle tecniche sotto diverse annullature, altezze, dinamicità, tradizione. Musica Diciamo molto completo, anche il livello di istruzione delle tecniche è molto approfondito ed è pazzesco. Cioè ogni volta rimango a bocca aperta da quello che posso imparare da questa scuola. Musica E che cosa ne pensi del maestro? Eh, maestro, beh, diciamo che mi tengo molto molto fortunato di aver incontrato un maestro con la M maiuscola. Una persona che stimo tantissimo, non è solo un maestro di arti marziali, per me è molto di più, è un maestro di vita. Grazie Musica Grazie a tutti.